musica musica ragazzi prima di iniziare questo video voglio salutare un iscritto che sta anche lui seguendo questa serie e mi ha dato un consiglio che adesso vedrete si chiama ciao ciao quindi ciao 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 avete capito comunque mi ha consigliato una nuova macchina da drift prima di farvi vedere la nuova macchina drift cazzo sono senza soldi quindi dobbiamo andare fuori e farci un po' di soldi la corolla non c'è più ecco voi la nuova auto da drift ragazzi sembrava strano effettivamente sembrava strano anche a me una trazione integrale come auto da drift però da quel che ho capito e da quel che ha detto lui da quel che ho visto in generale è un'auto spettacolare da drift appunto l'ho fatto a cerchioni neri mezza rossa mezza nera questa l'ho presa vabbè dai dai un rap più seguito di successo eccetera eccetera molto bello complimenti al creatore cerchioni bellissimi neri anche loro stupendi mi piacciono un botto volevo fare una roba mi sono dimenticato ah si la mettiamo su si la mettiamo su vera pata oh io ci provo e lo andiamo a provare non l'ho vi dico di già non l'ho modificata del tutto molte cose vedete sono molto basi perché sono rimasti senza soldi in compenso però in compenso però vabbè non ve lo faccio non la seleziono però ve lo dico a voce la skyline ragazzi l'ho modificata fino al buco del culo avevo delle modifiche che ancora non avevo fatto e l'ho modificata raga è una bestia una bestia vi ricordate che nella scorsa puntata non riuscivo a raggiungere 322 km ora li raggiunge così 322 proprio non si fa problemi adesso voglio sono molto curioso di sentire il rumore della Mitsubishi perché la Mitsubishi ragazzi la Lancer ha uno dei rumori più belli che io abbia mai sentito in generale però dipende come l'hanno messo in questo gioco wow 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 cazzo è bella quanto c'ha messo il chamber forse voi lo sentite un po' meno ma permettetemi di fare una cosa cioè raga è fantastica il rumore è fantastico con Gesù Cristo un attimo perché ok madonna raga quanto scula è un attimo perché c'è oddio ci dovrò prendere la mano è molto andiamo a incontrare il nostro Travis di San Diner oh Gesù scusa non volevo salirti sopra la macchina e vabbè la Lamborghini mi fa il culo ma perché non è il massimo della velocità ho pensato più alla tenuta che alla velocità krishna stavo seguendo la Lamborghini mi sono incantato ok ci devo prendere la mano però è divertente così dai ragazzi vediamo un po' cosa da dirci il nostro Travis l'outlower non si è schiantato attenzione cavolo tu non ti arreddi mai vero? già ero io là fuori sorpreso nemmeno io quando sei in questo trip sai subito chi è come te sta tutto negli occhi chico cosa? per quanto tu sia stato notevole guidare la politica c'era in grossi guai un giorno o l'altro un sacco di gente del giro si nutre di questo ti vogliono come il nuovo re ma non conta solo il talento i ribelli piacciono a chiunque qualcuno che lotta contro il sistema quindi fatti una domanda sei il tipo di pilota che lo fa per l'adrenalina o cerchi solo riconoscimenti? tutto due? speravo che facessi il salto e so bene che sei tentato tieni acceso il telefono ok hai capito tre hai capito il compagno di mia madre assieme a mia madre che fa un casino sempre quando lo c'è sto minchia che palli sta eni vai a fare culo allora minchia in contramano al bunker vabbè va bene perché almeno ci prendo un attimo la mano ragazzi ci vediamo appena arrivo al bunker amico cerca di rispondere subito al telefono il gruppo si sta radunando organizziamo una gara sprint i ragazzi stanno facendo un casino proprio ora la pula è sempre un'ottima motivazione per tagliare il traguardo ci becchiamo bella ci stavo la macchina bel porsche e via però io ho una Lamborghini Huracan perché c'è un bambino ciao ti presento qualcuno vieni come va sono buono ciao sono Ken bel lavoro quindi questi ragazzi ti hanno impressionato oh sì cavolo è fantastico per te in città beh grazie ma e adesso? beh c'è questo furgone è di tacco sulla sesta mi fanno certi i gamberetti un posto fantastico io non credo che Ken sia qui per mangiare tacco ma dai sì cioè vado pazzo per i tacco ma ho qui la mia squadra abbiamo qualche altro chiaro preferirei divertirmi un po' più che mangiare tacco ok ok ci stai? quando dio è un po' così cerchiamo pratichiamo sgombiamo poi tacco i gamberetti adoro adoro questo è più sì pronto per i rock sogniamo non so cosa è successo ragazzi è tornato al desktop da solo ma che cazzo ne so ecco si è anche abbassato di grafica basta ti amari madonna oh allora ragazzi si è abbassato di grafica mi sa vedete no forse no non lo so sembrava si fosse abbassato di grafica allora ragazzi comunque niente abbiamo conosciuto Ken Block cioè completamente a caso corre la gara sprint quindi andiamo a prendere la skyline e andiamo a correre la gara sprint adesso vi faccio vedere la skyline come cazzo è veloce adesso che è stramodificata è un qualcosa di bestiale ragazzi preparatevi ragazzi a trattenere l'emozione perché è veramente madonna che buco va bene Manu te la lascerò studiare e poi i ragazzi si uniranno a te ok bene grazie amico ci becchiamo ehi sentito della patetessa a tetta con la crote di unica questa è la nostra occasione amico e non la rovineremo ma cazzo facciamo va bene non lasciate lì ad aspettare capito a dopo cioè siamo contro il gruppo di Ken Block che cazzo è successo attenzione la skyline che gli è preso ragazzi intanto che andiamo da Magnus Walker vi volevo specificare una cosa di Need for Speed io di solito ho sempre fatto 25 minuti per video anche su Need for Speed però mi sono accorto che comunque ad esempio questa puntata poi risulterebbe un po' troppo noiosa quindi cosa ho deciso di fare si sei tastico ho deciso di fare in ogni puntata 4 missioni compreso il viaggio quindi se succede qualcosa nel viaggio adesso se io facessi la cosa dei 25 minuti il video durerebbe poco e non succederebbe nulla perché ho fatto solo un viaggio provato da Mitsubishi abbiamo guardato due video molto importanti di cui uno oltretutto si vede a malapena perché Cristo ha deciso di tornare al resto da solo non so come mai poi abbiamo scoperto di Travis quindi adesso io direi facciamo ancora dato che abbiamo fatto due missioni queste che sono i due video facciamo questa gara questa gara e poi basta chiudiamo secondo me è meglio così almeno c'è un po' più di cosa guardate tanto anche se il video dura un po' di più non me ne frega niente ci sono molti tagli quindi ok andiamo gara sprinter con le manius walker con la porsche attenzione guardate come si mangia la porsche la skyline mamma mia via l'auto di manius walker se ne va se ne rimane belle dietro per ora e però pian piano mi raggiunge via un po' ok bella curva dai ragazzi e mi è attaccato è attaccato al culo attenzione vai concentrazione da un po' che non non ci gioco però questa la dobbiamo vincere me ne frega una minchia ah ho sbagliato però lui ho frenato di più quindi siamo ancora avanti dai 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 ok wow no madonna madonna che culo dai 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 non ti fa superare no 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 eccolo lì fine ciao non becchiamo più ci siamo mangiati la gara ci siamo mangiati completamente la gara. Io ci provo, ma è difficile il tedesco. È un po' legnosa in curva, se posso essere sincero. Un gioco in botta. Attenzione, però con questa botta riesce a conquistare la prima posizione dopo un incidente. Dai Lucas, dai che ce la fai. Dai, dai, dai. Vai con la musichetta sotto. Vai, vai, giù di nos qua. Qui c'è il dritto, l'orienta. Connessione. Dio, bono. Dai. Dai. Oh mio Dio, la gara. Ma va un po' in culo, che cazzo di vittoria abbiamo fatto, la gara? Ma non scherziamo. Ah, c'è anche il bonus a tempo limitato, vero? Michi abbiamo fatto una bella gara. Allora, la macchina ha subito un po' le conseguenze di questa vittoria, però siamo quasi a livello massimo, livello 50. E sono molto contento di questo. Ehi, Aleko, sono Lagnos. Ho pensato che ti andasse una corsa diversa, quindi ho preparato qualcosa di nuovo. Già una schiata. Vediamo che succede. Posso legare in velocità? Cos'è che ho preparato di nuovo? Andiamo a vedere. La gara sprint. Cazzo, è preparato di nuovo. Allora, ragazzi. Andiamo a fare, quindi, a questo punto, l'ultima gara di oggi. Andiamo a fare l'ultima gara di oggi, che è di Emi. E poi ci vediamo la prossima puntata. Fatemi sapere se vi piace l'idea di fare quattro gare a puntata. Secondo me... Secondo me è davvero buone, però... o se ne volete cinque, però cinque non so se riesco a portarvelo. Forse trovo cinque. Varebbero video troppo lunghi. Io lo farei, perché ripeto, questo gioco mi piace un po' pot. Cioè, non me ne frega niente anche se ve ne porto cinque. Però non vorrei che magari poi il video diventa troppo lungo e mi abbia piaciuto. Comunque voi fatemi sapere dove cazzo sto andando. Voi fatemi sapere cosa volete e io lo faccio. Sono qui per voi, ragazzi. Porca merda. Da, porca merda. Oh. La velocità, ragazzi. 3,50. E poi tutto di più. Comunque se posso dirvi la verità, ragazzi, spero che non facciano altri Need for Speed che chiudono con questo, che mettano delle DLC gratuite, come aveva promesso, ma che poi non ha più fatto. Perché poi mi sono andato a informare, ma ha promesso delle DLC gratuite che poi non sono mai arrivate, purtroppo. E che tengono questo, perché graficamente è una bomba. Ha avuto molto successo, perché molti ci giocano. Davvero bello. Cioè, è un degno successore di Underground 2, se posso essere sincero, perché le macchine sono belle. Il gameplay è bellissimo. Ha qualche piccolo problema, che però... Sono problemi... Cioè... Ok. Ci puoi chiudere un occhio, diciamo, eh. Adesso abbiamo la prova a tempo. guardate la velocità, ragazzi. Cioè, ho fatto un passo notevole con questa macchina, eh. Ho fatto davvero un passo notevole. bella! Wall tap, via! Oh, cazzo. Mi sa che non ce la faccio, però. 16. Il muro non ci voleva. Sì, sì, ce la faccio. Ce la faccio, però, ho rischiato un po', eh. Qui ho rischiato un po'. 1.000 di bonus e via. Dica. Ok. Allora, bene o male, ora lo sai. Questo è un gioco di numeri. Vale sempre ritrovarci, non importa come. Eh? Va che ho vinto, Shura. Non so che problemi mentali hai. Va bene. Ragazzi, prossima gara. Vinci la competizione di Derapate con Fish. E niente, ragazzi. Ci vediamo alla prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi raccomando, fatemi sapere cosa volete. Se volete che vi porto quattro missioni, diciamo. Quattro missioni al giorno. O se volete altro. Se volete cinque missioni. Non di più, perché sennò poi, secondo me, diventa una rottura di balle. Insomma, comunque, fatemi sapere. Ci vediamo alla prossima puntata. Fatemi sapere anche se vi piace la nuova Skyline. Se volete vedere la Huracan in azione, dato che l'ho comprata apposta. Mi piacerebbe usarla. Se volete... Cioè, cosa ne pensate della Mitsubishi. E se volete anche vedere l'auto di Nakai-san, dato che ho anche quella. E niente, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Spero che il video vi sia piaciuto. Bella.